Attenzione, un annuncio importante. Il papà del bambino che indossa una maglietta gialla è atteso all'area informazioni. Sostituzione per la Juventus. Numero 6. Danilo. Numero 25. Numero 9. Morata. Lasciano il campo per il numero 27. Il numero 20. Il numero 7. Il numero 6. Il numero 7. 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 Il numero 8.ulle numero 7. Il numero 7. Diallo. Il numero 7. l'affluenza di quest'oggi è di 45.996 spettatori l'affluenza di un'affluenza di un'affluenza l'affluenza di un'affluenza di un'affluenza l'affluenza di un'affluenza l'affluenza di un'affluenza l'affluenza di un'affluenza 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.